Avvicina ma resta con la doppia cifra di ritardo, Cantu che nel frattempo si è adeguata all'Umana Reier, era già successo anche in gara 1, pronti intanto a rientrare Vigiano e va Jackson da 3 punti! Stavo dicendo che si è adeguata all'Umana Reier, togliendo il palleggio, ridà fuori per Gerius Jackson, ancora grande intelligenza tattica da parte di Thomas Ress che mastica palla canestro come pochi. Il blocco di Ordner che va poi al pick and roll ma giù, Jackson da un grande assist canestro, il pallo di Meta Warpice sta trovando i suoi ritmi. Per Abbas che è con sufficienza sbaglia, il sottomano rovesciato, il pallone per Michele Ruzier che dà a Spencer Nelson, poi Jackson si prende il tiro da 3 punti ed anche lui partecipa alla festa con una bomba. Jackson per Ordner che va via Williams, dà a Vigiano e Sacreplante invece ha ritrovato la verba, la linea di fondo, il pallone per Pietro Aradori, fuori per Gerius Jackson va al tiro da 3 punti! La bomba di Gerius Jackson, è qualcosa che suona come una liberazione per l'Umana Reier. Grazie mille.